Bella raga bentornati a un nuovo video, siamo con il culo in avanti, comunque oggi ci faremo uno speciale 5 cinti iscritti, abbiamo fatto una sfida praticamente di castelli, deciderete voi chi sarà invece i tuoi, iniziamo con quella di Vincenzo, molto bella, iniziamo, iniziamo, iniziamo dall'estetica, bellissima estetica, suori c'è il suo castello, vedi questo è il pisello del castello, no mi sto ciò, questa è la torre del castello, che anche ai lati ci sono due torri, così noi possiamo rompere il culo a tutti i nemici, e dove stai tu, dove stai, 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 i cannoni, no, ok, ok, qui ci sono due cannoni, così tiriamo, ti tiro aiutate, poi qui c'è la giamba, qui ci possiamo fuggere i nemici, qua ci possiamo cambiare, se ci fuggere i panni, poi ci possiamo salire, trovo la torre, dove è qui, si non, poi il culo non sta accendendo con le torrezze, fa vedere, che stai toccando, che stai toccando, niente, stavo guardando, fuori ci sono i nostri quattro veicoli, ci mi ricordo bene, ok, eccoli, dietro, dietro, no, zitto, quelli sono dietro, sono davanti, figlio di, figlio di sozzu, che c'è? allora, allora vediamo, prima quelli dietro, allora dietro, c'è, ma te cazzo che la vede? mi dico so, ragazzi, questo non è giusto, allora, è un uomo, forse, è un, è un, è un, bello, spero di farlo, male, farema la macchina per fuire, io o do, per sbaglio ho fatto, ti giuro, sto guardando con l'overboard, no, 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 per sbaglio con l'overboard, leva il video a Oh no Leva il video Poi ho fatto tutto Puoi Ah no Raga Ma perché Ma perché devi toccare Ok raga Vincenzo adesso ho fatto questa cosa E mi ha fatto molto arrabbiare Quindi daremo una sistemata No Mamma mia Mamma mia Mamma mia Mamma mia L'ho ucciso Figlio di zonzi Raga Júriòor Ha 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 Anche io Raga No, l'ho fatto Non c'è niente sotto Non c'è niente sotto Aspetta Abbiamo messo due ore Ieri mi hai fatto cosa Ma oggi la sfida si spassa A lunedì non vieni più a casa No, no, no Si, si è rotto il castello Ma è cagato Ci è rotto Ci è rotto il castello Quanto è cagato Quanto è cagato Braa, dov'è il tuo castello? Me l'hai levato Pezzo di merda Raga, comunque votate qual è la più bella Sicuramente la mia Ma non avete visto un cazzo? Come voi? Infatti, raga Non vi preoccupate Vabbè, io adesso sfasciamo tutto E rompa pure il mio E rompa pure il mio No E vai, rompa pure il mio E io rompo pure il mio Ma fa bagno a tutti No Dai, spavus 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 No, raga Ovviamente Che vedevo un'altra isola Raga Comunque Comunque Noi Beh Raga Abbiamo distrutto tutto Perché siamo Siamo molto bravi No, siamo molto bravi Raga Perché Perché E infatti Perché Vincenzo Mi ha distrutto la base Per il primo E Tirò un po' pure le palle Adesso Allora, aspetta Fammi pigiare carne Pigiare le armi Vabbè Allora Per questo video è tutto Che bello Ma non stai spavusando Ciao, raga Che bello Che bello Che bello